Sono Massimo Manca di Pattada. Ho iniziato a realizzare coltelli artigianali circa 16 anni fa. Ogni mia giornata è scandita dal suono ritmato del martello che batte sull'incundine dando così forma alle mie lame. Le mie realizzazioni nascono dallo studio della tradizione e del fascino della storia. Il coltello tradizionale del mio paese è ormai famoso nel mondo. L'amore per il lavoro fatto a mano, la continua ricerca per la perfezione e per la sperimentazione su diversi materiali caratterizzano il mio modo di creare coltelli ed è così che ogni giorno porto avanti questa antica arte realizzando con attenzione ogni mio coltello. Tramite un'amicizia in comune ho avuto l'occasione di incontrare l'architetto Cesare Monti con il quale è nato subito un'intesa particolare e dalla quale ha preso vita l'idea di rivedere e usare sulle forme del coltello tradizionale arrivando a qualcosa che non si era mai visto prima, il rimastere del patata. Il coltello di patata sarà sempre fortemente legato alla sua origine umile ma orgogliosa. ed è proprio questa sua semplicità e bellezza che lo ha reso sempre più spesso un oggetto artigianale da collezione che racchiude l'orgoglio dell'intera isola, la Sardegna. Grazie! Grazie! Grazie!